In un contesto di mondanità spirituale nella quale per molti la fede è priva del suo valore di orientamento e normativo, l'intenzione matrimoniale può essere viziata da un errore determinante della volontà. Lo ha sottolineato Papa Francesco ricevendo giudici e avvocati del Tribunale Apostolico della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Riflettendo sul contesto umano e culturale in cui si forma l'intenzione matrimoniale, il Papa ha ricordato che in una società secolarizzata l'abbandono di una prospettiva di fede sfocia inesorabilmente in una falsa conoscenza del matrimonio, con conseguenze anche nella maturazione della volontà di sposarsi. Il giudice è quindi chiamato ad accertare se ci sia un vizio d'origine del consenso, sia per difetto di valida intenzione, sia per grave deficit della comprensione del matrimonio stesso. Per questo il giudice, nel ponderare la validità del consenso espresso, deve tener conto del contesto di valori e di fede, o della loro carenza o assenza, in cui l'intenzione matrimoniale si è formata. Infatti, la non conoscenza dei contenuti della fede potrebbe portare a quello che il codice chiama «errore determinante la volontà». Questa eventualità non va più retenuta e senzionale come in passato, data appunto la frequente prevalenza del pensiero mondano sul Magisterio della Chiesa. Papa Francesco ha ricordato anche che è necessaria una conversione pastorale delle strutture ecclesiastiche per offrire giustizia a chi si rivolge alla Chiesa per far luce sulla propria situazione coniugale. La missione è quella di non chiudere la salvezza delle persone dentro le strettoie del giuridicismo e aiutare a stabilire la verità nel momento consensuale, se cioè fu fedele a Cristo o alla mendace mentalità mondana. Il Papa si è poi rallegrato del fatto che molte cause presso la rota romana siano di gratuito patrocinio per chi non è in grado di procurarsi un avvocato. I sacramenti sono gratuiti, ha concluso, e un processo matrimoniale tocca il sacramento del matrimonio. Quanto vorrei che tutti i processi fossero tutti gratuiti. Grazie a tutti.